Ciao ragazzi! Seconda cosa mi hanno detto quelli di Bologna che qui, hanno detto quelli di Bologna non venite a Ravenna, l'esercito! Quelli di Bologna mi hanno detto non venite a Ravenna perché quelli di Ravenna non sanno gridare! Uno vi dimostriamo che qui a Ravenna fanno il culo a tutti! E quando dico MET voi rispondete MET! 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 MET!